Buongiorno da Giuseppe Recca dalla redazione, mercoledì 13 marzo. Ci sono anche alcuni aggrigentini, 12 esattamente tra le 54 persone raggiunte da misure cautelare eseguite ieri dalla polizia in tutta l'isola emesse dal GIP del Tribunale di Caltanissetta. Tra gli indagati Giuseppe Alaimo, 29 anni, consigliere comunale di Canicattì, eletto lo scorso ottobre presidente provinciale della democrazia cristiana. La direzione distrettuale antimafia gli contesta di avere acquistato cocaina da un esponente del clan di Gela con la finalità di cederla, favorendo così la mafia Alaimo si è autosospeso dal partito. Si è spento nella notte all'età di 66 anni in un ospedale di Messina dove era ricoverato da alcuni giorni Michele Niosi, ufficiale della Marina Militare in riserva con il grado di capitano di fregata, per anni in servizio in provincia di Agrigento. Era molto conosciuto a Sciacca dove viveva e dove sono cresciuti i figli. Una brillante carriera militare nel corso della quale ha ricoperto incarichi di comando tecnico-operativi, tra cui quello di capo della squadriglia della Guardia Costiera di Lampedusa. Oggi alle ore 18 nella sala convegne della parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Agrigento verrà presentato il documento della chiesa agrigentina sulla sanità pubblica, rivolto un appello alle istituzioni affinché non si producano ulteriori tagli e smantellamenti dell'organizzazione dei servizi nei vari ospedali del territorio. Il documento sarà consegnato al commissario dell'Aspi di Agrigento, Giuseppe Capo X. L'associazione L'altra Sciacca è disponibile a collaborare con il Comune per una gestione ottimale e una migliore fruizione del Museo del Carnevale. La disponibilità è contenuta in una lettera aperta e indirizzata al sindaco Fabio Termine agli assessori di Mino e Sinagra, una richiesta ufficiale che arriva dal Sodalizio che durante l'ultima edizione del Carnevale ha svolto le proprie attività all'interno del museo. Numerose segnalazioni di cittadini sullo stato di pericolosità in cui versano molte strade per via di perdite idriche e dissesto del manto stradale. Problemi che si verificano nella rete urbana di Sciacca. Richieste di intervento arrivano da via Salerno, dove c'è una perdita idrica che dura da mesi, nella zona Segnazza, delle vie Mantua, Piacenza e Parma nel quartiere Perriera, dove anche la centralissima via Le Sciasce è stata transennata per la presenza di grandi buche. Si è svolta ieri nella Valle dei Templi la suggestiva cerimonia di accensione del Tripode dell'amicizia che di fatto fa entrare nel vivo la festa del mandorlo in fiora, un momento che parla di pace e fratellanza tra i popoli ormai da oltre 17 anni. La manifestazione si concluderà domenica prossima. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, buona giornata. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.